Venerdì 18 novembre alle 11, finalmente dopo ripetuti rindii, ci sono data e ora della consegna dei lavori e del loro inizio per l'abbattimento dell'inceneritore di Sarraineri. Il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti dell'Assessorato all'Energia ha già inviato la nota di convocazione alla ditta Messina Sud che si è giudicata all'appalto per la demolizione dell'ecomostro che da decenni deturpa l'area della storica fortezza spagnola della zona falcata di Messina. Nominato il responsabile della sicurezza del cantiere, una figura che non era ancora stata individuata ma che adesso c'è, le carte sono tutte in regola, venerdì si inizierà a scrivere la parola fine della storia di un inceneritore incredibilmente costruito in una zona dalle immense potenzialità turistiche e rimasto lì anche dopo la sua dismissione avvenuta nei primi anni 90. Una struttura che è stata sede di Loschiaffari, rifugio di fortuna e simbolo di una programmazione politica ed istituzionale senza logica che ha messo metallo, cemento e rifiuti a calpestare la storia di Messina. Questa volta non ci sono più scuso in toppi burocratici, l'inceneritore di Serraineri sta per essere abbattuto.